La progettualità per il recupero dell'ex caserma Duodo, un immobile in centro città Udine abbandonato da oltre 20 anni, è di grande interesse perché si tratta di un'area che ha delle potenzialità con cui dare risposte in particolare agli istituti scolastici e che potrebbe essere utilizzata in parte appunto per la didattica e in parte come convitto senza consumo di ulteriore suolo. Parola dell'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti durante il sopralluogo alla caserma di Viale Ungheria di proprietà del comune assieme alla collega all'istruzione Alessia Rosolenne e al primo cittadino Pietro Fontanini. Intanto ci siamo resi conto che è un'area molto vasta, molto grande, edificata per la maggior parte con grande potenzialità dal punto di vista scolastico e barra convitto. Per cui dal punto di vista funzionale e come obiettivo finale mi pare molto, ma molto interessante. È un'idea di programmazione sulla quale stiamo lavorando assieme a tutti gli altri attori che partecipano all'attività sul territorio. Grazie all'attività degli EDR per quanto riguarda l'edilizia scolastica delle scuole superiori evidentemente questo andrebbe a risolvere molte delle criticità della città di Udine. Si tratta di un'area di circa 6.500 metri quadri, edificata per la maggior parte e vincolata dalla soprintendenza. Il fabbricato di servizio, come emerso dal sopralluogo, potrebbe ospitare dopo la ristrutturazione circa 350 studenti e un convitto invece nel fabbricato adiacente. Fontanini ha espresso soddisfazione per il sopralluogo dello storico comprensorio ex distretto militare, auspicandone il recupero. Il primo cittadino ha fatto presente che in questo modo si viene a delineare una soluzione interessante e ragionevole perché la struttura è in pieno centro e permette così di non consumare altro suolo. Pizzimenti ha sottolineato infine come sarà essenziale in prima battuta il progetto definitivo per capire la montare degli investimenti. Prima di tutto bisogna capire qual è il progetto, non dico esecutivo, ma quantomeno definitivo per renderci conto della cifra finale. Chiaro che non sono cifre banali, ma neanche impossibili. Per cui con una programmazione adeguata, con un progetto valido, penso che riusciremo anche a trovare le fonti di finanziamento per arrivare a questo obiettivo.